Mr. Brian, siamo un trio ma comando io E arrivi a comandare e pensa un po' all'Open Club Bravo, allora voglio fare una cosa Siccome Dario Micolani e Dardomecca erano i detentori del nome 105 Open Club E io e Linda eravamo qui, tutto vero, 105 Con questa stretta di mano ufficiale Vai, 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 vai Dove me ne volere, no, no Vai, vai, vai Con questa stretta che non ci quadra la telecamera Ecco qua, sanciamo, si dice sanciamo? Sì, facciamo di sì Oh, l'hai detto tu Sanciamo un contratto che ci scambia i nomi dei programmi, va bene? Va bene, va bene Brian, avrei venito In bocca al lupo, a cattiva Crepi, raga, complimenti perché mi sono divertito un sacco No, ho contato veramente a prima ora l'ho ascoltata Più o meno Secondo me è una figa Allora, lo dico agli ascoltatori, non serve che lo dica io Secondo me è l'alchimia perfetta per farci divertire sabato e domenica mattina Che carino, Brian Grazie, Brian Lo dice solo perché non ve ne va a loro distanza Solo i liberati di me, non vi preoccupate Della serie Della serie Fatene buon uso Adesso ce la mette voi la patata bollente Sono capo dei vostri L'ho intesa un po', però in realtà è vero, veramente Intanto ti facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo Per questo tuo nuovo orario, quindi facci divertire anche tu Piangai La 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 la